benvenuti a un nuovo video ragazzi io sono claudio e oggi voglio parlare di una novità che non è inerente alla pesca o perlomeno c'entra ma in maniera parallela mi spiego bene come ben sapete io un'azienda di articoli sportivi inerenti ovviamente al surf casting tratto anche tutta l'altra sfera di spinning bolognese inglese bollentino eccetera però soprattutto sono specializzato e vorrò specializzare sempre di più per quanto riguarda il surf casting vero e proprio quindi surf casting puro cosiddetto surf casting puro qual è il perché sto registrando questo video volevo semplicemente comunicarvi come ben sapete essendo un'attività online ci sono le spedizioni onde evitare questo problema di spedizione mi sono informato curiosato contattato aziende preventivi e sono arrivato a una soluzione l'unico modo per agevolare voi ad acquistare più che altro per una questione di comodità ragazzi perché io utilizzo solamente spedizionieri professionali e non spedizioni del tipo non so quando arriva il pacco si è perso non ho mai perso un pacco tranquillamente sono tutte le recensioni ma comunque senza alcun problema quello che vi posso dire è sul canale ho creato una sezione abbonamenti ma molto semplicemente voglio sfruttare questa sezione di abbonamenti per dare un vantaggio a voi diciamo visitatori non è obbligatorio vi spiego bene l'idea qual è voi tizio quindi diciamo alessandro che vuole acquistare da me diciamo questa persona non esiste ragazzi voglio dire un nome a caso alessandro vuole acquistare da me alessandro rossi vuole acquistare da me la spedizione ha un costo ok questa spedizione ha un costo in base al pacco al peso se spedisco con corriere poi imposta uno raccomando ci sono tanti metodi ma magari alessandro dice vabbè io faccio un ordine grosso e magari ora non lo posso fare aspetto fra una settimana ora ragazzi questo non è un problema tantissimi la fanno e continueranno a farlo però qual è il vantaggio il vantaggio è voi fate l'abbonamento che vi lascio qui in descrizioni o perlomeno troverete vicino alla scritta iscriviti troverete la scritta abbonati poi ci cliccate e vi esce un piano ho scritto spedizione gratuita sni surf casting e nelloioni perché la pronima dell'azienda pagate l'abbonamento voi avrete un banner vostro quindi quando commentate avrete proprio un emoji vicino al vostro nome cognome o nickname quello che avete quando mi contattate per fare l'ordine voi non pagherete la spedizione quindi voi tranquillamente vi dite claudio io voglio quattro pacchi di ami due agli doppi non lo so una busta di perlino e una busta di girelle perfetto dovreste pagare la spedizione e invece no essendo abbonati oltre ad avere magari qualche contenuto esclusivo che metterò diciamo come prefazione ci saranno anche ci sarà anche la spedizione gratuita quindi voi acquistate e questo non vale solamente per una volta il vantaggio dove sta il vantaggio sta nel fatto che voi potete acquistare tre quattro cinque sei volte in un mese ma la vostra spedizione sarà già sempre coperta dall'abbonamento l'abbonamento l'ho messo da 5 euro e 99 quindi meno di sei euro fate conto che da questo abbonamento non li prendo tutti quanti i soldi perché youtube si fa le sue trattenute ovviamente però a me non interessa a me interessa dare un servizio funzionale che vi permette di poter acquistare senza il problema di dire no però c'è la spedizione nel mezzo l'unico limite è che l'ordine deve essere minimo di 14 euro e 99 ma fatevi conto che bastano un paio di buste di ami un paio di girelle qualche starlight elettronico e avete ricoperto la somma non è come dover spendere 50 60 70 100 euro di ordine per poter ammortizzare la spedizione se voi fate un ordine con i vostri amici sono fatti i vostri io se spedisco a te alessandro che sei abbonato la spedizione per te sarà gratuita ovviamente sarà gratuita in tutta italia isole comprese come sardegni sicilia perché sono siciliani per forza senza alcun problema anche l'isola d'elba senza alcun problema sono comprese nel prezzo si possono spedire canne si possono spedire murinelli minuteria marchiata self casting allo iogno e qualsiasi altra cosa ragazzi sarete coperti senza alcun problema ovviamente delle spedizioni sempre tracciabili questo non cambierà nulla l'unica differenza pagate un abbonamento per non avere più problemi di spedizione quindi fatevi il conto che anziché fare un ordine ne volete fare due o tre ordini a costo zero penso che questa sia una cosa ultra conveniente in ogni caso vi volevo comunicare che sono arrivati delle bellissime novità quindi cammiano discorso delle bellissime novità a livello di prodotti credetemi è arrivata una torcia magari mi metto la foto qua è arrivata una torcia dove praticamente magari metto uno spedizione di video che ho girato dove potete vedere di queste dimensioni trasparente verde con filettatura ermetica dall'acqua e sabbia quindi non c'è problema di portarla a mare o se dovesse piovere e potete poggiarlo sulla vostra servidora o come faccio io l'attacco dentro la tenda da campeggio così evito di prendere vento e freddo durante l'inverno durante la notte soprattutto potete appoggiarla vicino al vostro cassone sul vostro cassone nel paletto ragazzi potete camminarci per la spiaggia magari se avete bisogno di dover camminare da un posto a un altro vi fa luce comodissima economica pratica e super funzionale più di 50 ore di autonomia di luminosità potente anche perché non ha varie selezioni ma un on e un off l'ultima novità sono le perline in vetro di murano acchi da 50 pezzi misure per travi dello 0 40 0 55 0 70 non grandissime quantità in quantità limitata potete capire la motivazione vi metto qua la foto in ogni caso chi mi segue su instagram e vi ricordo ragazzi seguitemi su instagram iscrivetevi qua sul canale e mettete la campanellina perché tutte queste novità se no non mi arrivano purtroppo youtube ultimamente sta facendo il monello cioè ovvero non manda le notifiche a chi è iscritto al canale l'unico modo è attivare la campanellina che vi arriva così la notifica radio cuoco l'ha pubblicato un nuovo video poi potete essere voi a scegliere di vederlo o non vederlo o vederlo dopo in quel caso io comunque vi consiglio sempre di vedere l'ultima cosa sarà una grandissima novità che ho parlato già su instagram quindi chi mi segue già lo saprà ma lo vedrete più avanti farò un video dedicato ragazzi qualcosa di fenomenale sono ultra contento per arrivare a questo progetto ci sono volute ore sudore soldi qualcosa di pauroso per arrivare a questo progetto perché non è stato semplice aver varie complicazioni che si vengono a creare ma soprattutto come vuole sempre fare l'azienda self casting lo ionio cerco di portare dei contenuti che non siano comuni e banali questa cosa per me è fondamentale ragazzi quindi se io vado a costruire che posso dirvi questo d'acquino non lo faccio semplice bianco dove tu puoi scrivere ci sarà sempre un perché questo d'acquino sarà un qualcosa di unico rispetto a quello che trovate sul mercato quindi questo progetto che uscirà è un progetto che esiste in altre aziende ma che ha la sua particolarità quindi come sempre cerchiamo di aggiustare i problemi comuni dei pezzi fatti in maniera in maniera standard quindi la cosa più importante detto questo come vi dicevo iscrivetevi seguitemi su instagram mi lascio tutti quanti i link qua sotto per chi vuole vedere i prodotti può seguirmi sulla pagina facebook self casting lo ionio vi ricordo che potete tranquillamente cercare su google safari dipende che cosa avete self casting lo ionio primo link primo banner cliccate e spunto io senza alcun problema potete vedere foto video potete vedere tutte le catture che hanno fatti i clienti amici con che tipologia diamo con che tipologia di trave c'è tutto quanto scritto perché mi piace comunque dare un contributo a chi vuole iniziare a fare questa bellissima disciplina perché ragazzi il self casting è una disciplina fantastica detto questo vi saluto un abbraccio spero di riuscire con un nuovo video anche se penso che oggi che sto registrando questo video uscirà un nuovo video per una vesca allorata e basta alla prossima ciao Grazie a tutti.